Nella pagina iniziale, aprire il menu e selezionare il settore telefono. Importante! È necessario accoppiare il telefono quando viene utilizzato la prima volta. Grazie alla connessione Bluetooth è possibile sfruttare le funzioni Viva Voce. Nel sistema possono essere memorizzati fino a sei telefoni. Tuttavia, la modalità Viva Voce può essere attivata solo per uno in qualsiasi momento specificato. La funzione di elenco dei dispositivi consente di passare da uno dei telefoni memorizzati. Sono disponibili funzioni standard come contatti, cronologia chiamate, componi numero, messaggeria e impostazioni. R-Link 2 consente di visualizzare messaggi SMS o di leggerli utilizzando il sintetizzatore vocale. Il comando vocale può anche essere utilizzato per comporre un numero o chiamare un contatto presente nell'elenco. Grazie. 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 Grazie.